Anche Gela scende in campo per aiutare le popolazioni del centro Italia devastate dal violento terremoto del 24 agosto scorso. Domani in Piazza Umberto I si darà l'iniziativa Una Matriciana per Amatrice. L'evento è promosso dal Comune in collaborazione con la Risto World Italia e con le associazioni di volontariato e gruppi emergency. Il contributo innanzitutto praticamente in Piazza Umberto I, lo ricordo domani sera, dalle 19 in poi, anche se dalle 17 inizieranno a preparare una mega torta, ci dicono gli chef. Il contributo sarà devoluto attraverso un tagliando che è possibile acquistare nella giornata direttamente di domani e tutto quello che verrà raccolto verrà reso noto già nella serata di domani. E rispetto a questo poi saranno questa volta le amministrazioni a sentirsi, quindi non ci saranno situazioni indirette, saranno direttamente l'amministrazione di Gela attraverso il sindaco, nel sindaco di Amatrice, che opereranno direttamente questo. E' importante esserci al di là del gusto e delle cose buone che assaggeremo e che mangeremo, è importante esserci come città, giusto perché il contributo sia ancora più sostanzioso e utile a chi lo riceve. L'assessore comunale Francesco Salenitro. Sulla solidarietà la nostra città non deve dimostrare nulla, perché già lo fa in tante direzioni, con tante associazioni, sia di volontariato, club service e quant'altro, la stessa città. Da questo punto di vista quello che noi stiamo per fare e organizzare lo facciamo sull'onda di questo dato di fatto che la città già possiede a proprio interno. Quello che accadrà quindi domani sarà, sì, la ricerca di un contributo da mandare alle popolazioni colpite dal terremoto, ma in realtà sappiamo anche che non è risolutivo ed è una piccola goccia nel mare della necessità di ricostruzione, non soltanto fisica, delle città che sono state distrutte dal terremoto. Però è importante per gli abitanti di quei territori per sentire la vicinanza della nazione e delle popolazioni accanto a loro. Questo forse vale ancora di più di quello che viene dato fisicamente e materialmente. Ai nostri microfoni lo chef Salvatore Pizzo. Inizieremo a preparare dalla mattina. Abbiamo invitato come associazione Risto World e tutta la Sicilia, dove ci saranno tutti a partecipare, ci saranno più di 10 chef che verranno a darci un contributo professionale e la loro presenza. Alle 17 inizieremo con una mega torta di 40 kg per la torta normale ed una torta di 50 porzioni per la senza cludine. Da prescindere che il pasto è dedicato anche alle persone di indolleranza alimentare, pertanto ci sarà anche l'associazione di celiachia, pertanto il pasto è per tutti. Vi prego di non mancare.